Ciao ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video, sono Lorenzo Campo, co-founder del progetto GOT Nation, il primo progetto NFT con utilities reali nel mondo reale sin dal giorno zero. Ti lascio qui sotto in descrizione tutti gli include del progetto, se puoi andare a vedere meglio di cosa si tratta. In questo video andiamo a parlare però delle skills, delle migliori skills da avere nel mercato NFT, nel mondo NFT. Questo ovviamente per cercare di aiutarti a capire appunto le capacità necessarie che sono più alto pagate in questo momento e quindi sfruttare a tuo vantaggio questa onda, questa nuova appunto rivoluzione che sono gli NFT, ok? Prima di iniziare con il video ti invito, mi raccomando, ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanella, ti costa due secondi ma per me è molto importante perché appunto sto facendo questi video creando un vero e proprio corso gratuito sui NFT qui su YouTube, quindi infatti ho anche fatto una playlist gratuita che puoi vedere appunto qua sul mio canale che si chiama appunto Corso NFT Gratuito. Quindi diciamo fammi capire che questi contenuti ti piacciono, sono utili e non li sto facendo senza motivo quindi iscriviti al canale, lascia like e seguimi anche su tutti i social, soprattutto Instagram e Twitter mi trovi come LorenzoCampo22, questo perché lì posto anche contenuto ovviamente interente a questo mondo e quindi potrebbe essere molto interessante e più veloce la comunicazione. Quindi iniziamo subito con il video e capiamo quali sono queste migliori skills. Le ho coperte e le andiamo a scoprire una per una. Ne ho fatte, dovrebbero essere sette. Allora la prima, come la state intravedendo qua, è il Discord mod. Cos'è il Discord mod? Il Discord mod è, intanto ragazzi faccio una premessa che, diciamo io ho voluto portare queste sette skills perché sono quelle che, su cui noi in primis con il progetto che stiamo lanciando abbiamo cercato. Di conseguenza ho l'assoluta certezza che c'è una richiesta di mercato per queste cose che vi sto dicendo e che tutte queste skills che vi sto dicendo siano alto pagate. Perché? Perché l'abbiamo fatto noi in primis, ok? Quindi, piccola premessa per farvi capire anche il valore di questo video, che c'è qualcosa di reale dietro e esperienza dietro, non sono soltanto parole così buttate giusto per fare un video, ok? Quindi, Discord mod cosa vuol dire? Vuol dire moderatore di Discord. Se ancora non sai cosa è Discord, mi raccomando, recupera gli altri video e per fare il moderatore di Discord diciamo che non servono delle skills particolari. L'unica skill che magari potresti, l'unica skill che magari potresti dover implementare è quella dell'utilizzo dell'inglese, ok? Però, anche lì, comunque sono messaggi, non è che bisogna parlare a voce, quindi puoi giocartela, diciamo, un po' col traduttore. È chiaro che io consiglio a prescindere di imparare l'inglese perché è proprio per voi, ragazzi. Perché se volete entrare in questo mondo, in generale, fare un qualcosa in più, l'inglese è fondamentale in tante, tante cose, ok? Quindi a prescindere da questo, non servono grosse capacità per fare Discord mod, ovviamente devi essere, devi saper parlare l'inglese, devi saper interagire con le persone, devi, ripeto, sempre via chat, quindi niente di troppo complicato e devi sapere magari i termini tecnici del mondo NFT, anche lì però ci ho fatto un video dedicato, quindi già se sei quelli in realtà ti guardi il video e sei a posto. Quindi qua, molto interessante, come andare a richiedere, come iniziare a fare il Discord mod? Innanzitutto promuovendoti sui tuoi canali, non so se hai i canali social, ti appunto promuovi su queste cose, oppure andare proprio alla ricerca dei nuovi progetti NFT che hanno bisogno sicuramente dei moderatori Discord. Quindi offri magari all'inizio anche una prova gratuita, perché ragazzi voi dovete capire che tante cose anche le imparate stando dentro, no? I progetti, quindi essere un moderatore Discord gratis magari per un progetto che sta nascendo e su cui vi credete, oppure un progetto anche abbastanza grosso, magari non vi ritorna in termini di soldi subito qualcosa, ma in termini di esperienza, di visibilità e di trust delle altre persone, ecco, questi qua sono tre punti che non hanno veramente valore, ok? Quindi cercate anche di capire, ovviamente se fare il Discord mod richiede particolari capacità, è anche chiaro che per iniziare potreste accettare anche una posizione in cui non siete pagati con i soldi, ma venite pagati proprio con esperienza, visibilità e trust, ok? Quindi questo anche per darvi un'idea. Poi, per quanto riguarda il secondo punto, il secondo punto è l'artista. Ragazzi, l'artista è una figura veramente importante, veramente ricercata e veramente alto pagata in questo periodo storico riguardo gli NFT. Ovviamente voi dite, chiaro, ma se io non sono un artista come faccio? Allora sì, in questo caso diciamo che, ecco, c'è bisogno di un minimo di capacità pregressa. E' anche vero che, a meno che non stiamo andando a fare, non so, una collezione come la nostra, che è comunque molto ricercata, molto particolare, abbiamo voluto investire tanto sull'arte, diciamo che già una collezione 2D è molto più fattibile, ok? Chiaro che dovete prenderci confidenza, magari comunque non è che voi siete, dovete diventare i massimi esperti questa settimana in una di queste skill e monetizzarla. Voi potete anche, insomma, mettervela in testa una di queste skill e iniziare ad implementarla. Quindi, semplicemente, magari non la fate adesso, non siete esperti adesso, ma da qua a 6 mesi che iniziate ad imparare, a provare, a fare robe, cavolo, diventate bravi e quindi potete farvi pagare anche molto per altri progetti. Non è che il mondo NFT scompare dall'oggi al domani o da qua a 6 mesi scompare. Quindi iniziate anche ad investire, magari, su una skill particolare che vi piace. Questo è un consiglio spassionato che vi do. Poi, terzo punto, developer. Allora, vediamo un po'. Sì, questo qua arriva fino a qua. Esatto, il developer cosa vuol dire? È lo sviluppatore, ragazzi. Lo sviluppatore di cosa? Di diverse cose. Perché nel mondo NFT, ovviamente, ci sono, diciamo, anche gli smart contract. Anche qui. Pensate a costruire gli smart contract, recupero il mio video. Quindi diventare un developer significa, nel particolare nel mondo NFT, imparare il linguaggio Solidity, che è il linguaggio, diciamo, generale su cui vengono fatti gli smart contract su RedEthereum, ok? Quindi, anche qui, io per esempio non lo so fare, non sono un esperto di questo minimamente, però, ovviamente, abbiamo nel team persone che se ne occupano. Quindi, queste persone, ovviamente, vengono pagate, perché in questo caso, diciamo, nessuno lo fa gratis, ok? A prescindere. Quindi, imparare in un linguaggio Solidity e iniziare a fare, a programmare, se già sei un programmatore, ci metti, boh, una settimana, secondo me, anche perché ho altri programmatori che l'hanno fatto. Se non sai a programmare e parti da zero, secondo me, con un impegno abbastanza, insomma, importante, anche qui, con 4-6 mesi, secondo me, raggiunge una buona capacità, ok? Quindi questo qua, per quanto riguarda gli smart contract, invece, diventare anche un esperto di Webflow, che sarebbe un costruttore di siti web, appunto, nel Web 3.0, che, che praticamente inserisce diverse funzionalità del mondo, del mondo NFT, come il minting, come la, il wallet connection, quindi dove puoi connettere il wallet, insomma, e tutte queste altre cose. Poi, poi, vediamo un po', la, il quarto punto, il quarto punto, ragazzi, è il ricercatore. Cosa vuol dire ricercatore? Vuol dire una persona che studia costantemente e condivide progetti di una nicchia specifica del mondo NFT. Voi sapete che nel mondo NFT ci sono diverse nicchie, c'è la nicchia delle utilities, come è quella, per esempio, del nostro progetto, dove è più concentrato sull'utilità reale del progetto NFT. C'è una nicchia gaming, nicchia, appunto, delle foto profilo, nicchia di, non so, di lusso, moda, insomma, eventi. Ci sono mille nicchie, ok? Quindi, scegliete una nicchia specifica, diventate un divulgatore, un ricercatore di quella nicchia specifica dove, io vi consiglio Discord, cioè, scusate, non Discord, Twitter, Instagram e, se proprio volete, anche un vostro blog. Però, principalmente, sono in ordine di importanza, Twitter, Instagram e blog, ok? Quindi questo qua è veramente, veramente figo. Cioè, ci sono persone, anche adesso, nel panorama NFT, che comunque è nato da poco, che sono diventate autorità incredibili, che chiedono, quindi, di conseguenza, diversi soldi per poter, magari, essere citati, per poter avere una collaborazione, soltanto perché hanno iniziato a studiare e scrivere, appunto, riguardo una nicchia dei progetti NFT. Poi, vabbè, data analisi, quindi andate anche a vedere, ovviamente, tutte le analisi dei data, e quindi, insomma, diventate un'autorità in una specifica nicchia. Questo qua è una cosa molto, molto interessante, che non richiede particolari skill iniziali, ovvero, soltanto, ovviamente, il senso critico di capire come giudicare un progetto, però, dopodiché, insomma, iniziate a progetto dopo progetto, a metterli online, e vedete che poi, insomma, imparate anche molto facendolo qua. Mentre il quinto punto, che voglio vedere oggi, è il Discord Builder, che è diverso, ovviamente, dal Discord Mode, perché il Discord Builder è colui che costruisce il Discord, quindi inserisce, magari, i bot, inserisce, appunto, tutta la sicurezza, inserisce, costruisce, effettivamente, il Discord, con le sezioni, tutte le cose, appunto, che ne derivano. E anche questo qua, ovviamente, è un lavoro, è una skill che si può imparare, secondo me, questa, se vi mettete, ragazzi, questa in 3-4 giorni, a mio avviso, si impara, ci sono milioni di video su YouTube che spiegano come fare, basta soltanto la buona volontà di farlo, e si fa. Quindi, questa qua, secondo me, è una skill molto interessante, che è pagata, perché, ovviamente, la costruzione da zero di un Discord richiede del tempo, e quindi, di conseguenza, quasi sempre, cioè, per non dire sempre, è, ovviamente, pagata e indispensabile per ogni progetto NFT. Quindi, non è che un NFT può scegliere, saverlo o meno, ok? Di base, tutti lo hanno, ok? Quindi, ovviamente, come ho detto prima, i bots, la sicurezza, eccetera, eccetera. Il sesto punto è la PR Agency. Cosa vuol dire PR Agency? Vuol dire, sono, praticamente, quelle, tutte quelle agenzie, che non fanno altro che mettervi in contatto, ok? Che mettervi in contatto persone, founder di un progetto, team di un progetto, con, magari, le sponsor, ok? Quindi, non so, avete diverse connessioni con influencer, persone nell'ambiente, create questa PR Agency, dove potete, appunto, offrire questo servizio. Quindi, a cosa serve questa cosa? Innanzitutto, per dare più trust al progetto, quindi eliminare la cosiddetta food nel progetto. Poi potete offrire anche altre cose, potete creare brand identity nel progetto, potete fare anche il management dei social media, quindi dovete andare, appunto, a gestire Twitter, Instagram, potete andare a fare anche un brand positioning, magari una creazione di un logo, insomma, poi potete, insomma, vedervelo voi a seconda del progetto su cui state lavorando. Io, però, vi consiglio assolutamente questa cosa, perché non tanto, magari, la PR non è tanto una skill, ma se hai conoscenze, le vuoi sfruttare, in pacchetti bene in servizio, se non le hai, non troppo. Ma quanto gli altri punti, ovvero la brand identity, social media, brand positioning, sono tutte cose che, comunque, serve sicuramente imparare a farle, ok? Però, magari, se mi segui da più tempo, io mi sono sempre occupato di marketing online, in particolare su Instagram, e della creazione, appunto, di queste cose, dai già lo sai perché hai comprato un mio corso in passato, che ora non vendo più, oppure hai fatto una consulenza con me, quindi già ce l'hai, questa skill, quindi monetizzala anche in questo mondo, perché è veramente, veramente utile. E poi, anche, ovviamente, tutto quello che riguarda il B2B, quindi tutti i servizi B2B, ovvero, appunto, agenzia, per esempio, per le whitelist, e vendere tutti i tuoi servizi ai progetti, quindi quelli, in realtà, il sesto e il settimo punto sono un po' insieme, anzi, farei anche così, giusto per capirci meglio. Ok? Mettiamoli qua, così almeno si capisce un po' meglio. Quindi, ragazzi, vedete cosa intendo. Intendo, appunto, tutte queste cose, vabbè, adesso non riesco a metterlo, comunque, tutte queste cose qua fanno parte di quello che è un'agenzia di servizi che potete offrire, ovviamente, al progetto NFT e farvi pagare molto. Quindi questo qua è un po' in linea generale tutto quello che si può offrire. Ovviamente ci sono anche tante altre cose, però secondo me queste sette sono davvero interessanti e sono le migliori, appunto, che ho scelto su cui potete farvi pagare nel mondo NFT. Quindi fatemi sapere se magari avete già una di queste sette skill o magari iniziate proprio da oggi grazie a questo video a costruirne una da zero, ok? In quel caso, secondo me, fate una cosa molto intelligente perché state investendo in un mondo che a mio avviso non scomparirà a breve, anzi è qui per rimanere. Quindi nulla, mettete like, lasciatemi un commento per farmi capire se questo video, per farvi, sì, per farmi capire se questo video vi è piaciuto e nulla, seguitemi sui social, iscrivetevi al canale e aspettate il prossimo video perché sarà molto 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 interessante. Quindi io vi saluto che Vitalik sia con voi.